Le malattie renali croniche rappresentano un problema epidemiologico molto importante in tutto il mondo, soprattutto perché sono malattie sommerse e quindi è necessario che questa malattia venga individuata e riconosciuta precocemente. È un po' come un iceberg, la parte sommersa è enorme e va individuata e quindi è importante questo aspetto diagnostico, ma è molto importante prevenire le malattie renali. In primo luogo è importante la familiarità, conoscere se in famiglia c'è una storia di malattia renale cronica per le forme congenite e trasmissibili e c'è la necessità poi di scoprire se ci sono altre condizioni predisponenti. Bisogna poi domandare che farmaci sta prendendo il paziente, perché molti farmaci come è noto sono nefrotossici e quindi possono indurre un danno renale e una malattia renale cronica. Grande importanza quella dell'alimentazione e dell'obesità. Ci sono nefropatie collegate all'obesità e a una alimentazione inappropriata e su questo è necessario che il medico e l'internista intervenga. E poi il ruolo delle malattie croniche, il diabete e l'ipertensione arteriosa sono malattie che possono provocare un danno renale e quindi indurre un peggioramento, una malattia renale cronica e la conseguenza riduzione della funzione e l'insufficienza renale. Anche le infezioni urinari ricorrenti vanno curate ma soprattutto riconosciute precocemente e vedere se hanno interessato non soltanto la vescica ma anche il tessuto renale. In questo rimane fondamentale un antico esame, l'esame delle urine. Da questo esame ben fatto arrivano tante informazioni, la protenuria, l'ematuria, la leucocituria, la cilindruria. Se noi guardiamo a questo esame antico e semplice possiamo veramente fare una prevenzione efficace della malattia renale. Grazie a tutti.